Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Erika Murray nasce il 20 novembre del 1983 e cresce a Northbridge, nel Massachusetts, con sua madre Sharon, suo padre Kevin e due fratelli. La famiglia Murray appartiene alla classe media. Kevin fa il meccanico, mentre Sharon si occupa di artigianato e sta a casa per la maggior parte del tempo. Erika vive un'infanzia normale, viene descritta come una bambina felice e spensiorata. Va particolarmente d'accordo con i fratelli, infatti giocano sempre insieme. Erika adora giocare a nascondino e a baseball con loro e spesso passano anche il tempo in piscina. I Murray vanno in vacanza diverse volte durante l'anno e sono molto uniti con gli altri residenti del loro quartiere, tant'è che organizzano sempre feste o barbecue. Erika è molto brava a scuola, studia tanto e ha un bel gruppo di amici. C'è soltanto un'ombra che si proietta nella sua infanzia e prende forma nella paura dell'abbandono che si manifesta con segni evidenti. La ragazzina cresce con la preoccupazione costante che i suoi cari l'avrebbero abbandonata, includendo sia i familiari che gli amici. Da adolescente Erika si appassiona al make-up e anche alle accunciature per capelli, che sperimenta su se stessa. Erika è orgogliosa del suo aspetto, ama la moda e sceglie i vestiti da indossare con molta attenzione. Quando Erika compie 16 anni, trova lavoro nel McDonald della zona e in poco tempo inizia a ricevere numerose attenzioni da parte di un collega più grande, di 23 anni, di nome Raymond Rivera III. Raymond corteggia Erika senza sosta e lei lo asseconda, infatti presto iniziare una relazione. Un anno dopo, quando Erika ha 17 anni, scopre di essere incinta ed è terrorizzata dalla reazione che i suoi genitori potrebbero manifestare alla notizia. Così decide di nasconderla, ma non solo a Sharon e Kevin, beh sì quasi a tutti quanti, fatta eccezione per una cara amica. Proprio l'unica amica con cui si è confidata un giorno va a trovare Erika a casa e si rivolge a sua madre Sharon dicendo, ciao nonna. È in questo modo che Sharon e il resto della famiglia di Erika scoprono della gravidanza. La notizia destabilizza tutti, ma i suoi genitori decidono di offrirle il massimo supporto. Erika però continua a mantenere il segreto a scuola, non vorrebbe neanche presentarsi il giorno del diploma, perché tutti l'avrebbero vista in stato interessante. Per fortuna, alla fine, gli amici più stretti riescono a convincerla. Non molto tempo dopo, la coppia dà la luce una bambina che decide di chiamare Kyla. I genitori di Erika, sempre disponibili, invitano Raymond a vivere da loro, così i tre avrebbero condiviso lo stesso tetto come tutte le famiglie. Insomma, Kevin e Sharon supportano la figlia, sia fisicamente che emotivamente che finanziariamente. Quando escono per fare la spesa, comprano tutto l'occorrente per la bambina, si occupano delle faccende domestiche e aiutano Erika ad accudire la piccola. Le cose procedono in questo modo per due anni. Raymond, Erika e Kyla vivono serenamente con i genitori della ragazza, i quali le consigliano di aspettare prima di avere un altro bambino. Erika è ancora molto giovane e non riesce a prendersi cura di Kyla al 100%, ma più in là avrebbero potuto avere altri figli se lo avessero voluto. Tuttavia Erika e Raymond non ascoltano il suggerimento, infatti lei rimane incinta di nuovo a 20 anni. Questa volta Erika dà alla luce un bambino che decide di chiamare Nicholas. La coppia e i due bimbi a questo punto si trasferiscono nella loro casa nuova di proprietà della sorella di Raymond, ma al momento non occupata da nessun inquilino. L'abitazione si trova a Blackstone, nel Massachusetts, al confine con il Rhode Island, precisamente al 23 di St. Paul Street. A questo punto Erika ha 21 anni e Raymond 28. E proprio adesso la personalità del giovane cambia drasticamente, o meglio, si rivela per quella che è davvero. Prima c'erano i genitori di Erika a tenere d'occhio Raymond, ma ora lui agisce indisturbato ed esibisce un carattere controllante e manipolatore. Fuori dalla casa dei suoi amorevoli genitori Erika si ritrova a dipendere da Raymond, un compagno prepotente che vuole isolarla, averla tutta per sé così da esercitare il suo controllo possessivo. Ben presto Raymond convince Erika a lasciare il lavoro perché pretende che resti a casa a occuparsi dei bambini, il che significa che lei dipende dal compagno anche finanziariamente. Lui non vuole che Erika rimanga in contatto con la famiglia e gli amici e sostiene che siano una distrazione per lei, che le portino via troppo tempo. Come tutti i partner autoritari e possessivi, Raymond vuole sempre sapere dove si trovi Erika, cosa stia facendo, ma in realtà non l'è permesso di vedere nessuno. Lui la minaccia. Se la scopre in compagnia di parenti o amici, la lascerà. Raymond è verbalmente aggressivo nei confronti di Erika, non perde occasione di omiliarla. Esprime tutta la sua rabbia anche se non abbrose la compagna fisicamente, almeno per ora, ma lei teme che prima o poi l'avrebbe picchiata e questa paura la perseguita. In ogni caso il riso verbale, psicologico ed emotivo che sta subendo Erika è altrettanto grave. Pensate che Raymond impedisce a Erika anche di accedere al loro conto bancario, dunque arriva a sottrarle il controllo in ogni aspetto della vita. Alla fine, purtroppo, la ragazza si rassegna, smette di uscire di casa e di prendersi cura del suo aspetto, si fa la doccia raramente e indossa solo vestiti che le stanno molto larghi. Erika dunque passa dall'essere un adolescente che ama truccarsi, sistemarsi i capelli, curarsi le unghie e indossare vestiti alla moda, al diventare una donna che si lascia completamente andare, disinteressata tutto ciò. Inevitabilmente la sua salute mentale crolla giorno dopo giorno. La domanda però a questo punto nasce spontanea. Perché Erika resta in casa con questo compagno dispotico e alienante? Ha dei genitori che la supportano, pronti a riaccoglierla in casa? Purtroppo non è sempre facile mettere fine a una relazione, nonostante sia balsana. Inoltre, come detto, Erika si porta dentro la sua paura dell'abbandono. Non vuole che Raymond la lasci e, temendo le sue minacce, fa di tutto per compiacerlo. Tra i riccatti di Raymond ve ne è uno, davvero immorale e spietato. Se Erika fosse rimasta incinta di nuovo, lui l'avrebbe lasciata, perché economicamente non può mantenere un altro figlio, come se un'eventuale gravidanza fosse soltanto una responsabilità di Erika. Infatti, i due continuano ad avere rapporti intimi non protetti e la conseguenza è immaginabile. Non passa molto tempo prima che Erika rimanga incinta per la terza volta. Terrorizzata dalle minacce del compagno, ma contraria alla scelta di abortire o di dare il bimbo in adozione, Erika decide di tenere nascosta la gravidanza e progetta di crescere suo figlio o sua figlia in segreto. Questa sembrerà anche a voi un'impresa alquanto impossibile, visto che Erika e Raymond non vivono in un castello. Tuttavia i mesi passano e pare che Raymond non si sia accorto che Erika è incinta, forse perché lei continua a indossare abiti molto larghi. Per me questa situazione ve lo dico è pazzesca, considerando che la coppia divide anche il letto. In ogni caso i mesi continuano a passare e Erika si convince che potrebbe davvero farcela. Siccome non le è permesso di andare a trovare la sua famiglia, nessuno sa che è incinta. Erika riesce addirittura a portare a termine la gravidanza senza che Raymond si accorga di nulla. Partorisce il bambino in segreto, da sola, nel suo bagno di casa, non va mai all'ospedale, non vede mai nessun dottore. Ma ora le tocca superare la parte più difficile. Come farà a nascondere un neonato che urla e piange? Ancora nessuno sa dell'esistenza del terzo figlio e lei lo sistema in una stanza al piano di sopra dove nessuno entra mai, ossia nel ripostiglio. I giorni passano, diventano settimane e Raymond, Kyla e Nicholas ancora non si rendono conto che c'è un altro bambino in casa con loro. Ma poi iniziano a sentire dei rumori sospetti e a farsi qualche domanda. Chiedono a Erika da dove provengano questi lamenti tipici di un neonato, ma lei inventa che sta facendo la babysitter al figlio di un'amica. Ora, io posso capire che i suoi due figli le abbiano creduto, sono solo dei bambini, ma trovo assurdo che Raymond abbia dato credito a questa bugia. È un adulto, non dovrebbe essere così ignaro e ingenuo. Tutto questo sta accadendo a casa sua. Raymond decide cosa Erika deve fare, cosa deve indossare, definisce tutti i dettagli della sua vita. Dunque, pensando in maniera realistica, nutro forti dubbi sul fatto che a un uomo che controlla ossessivamente la propria compagna possa sfuggire la presenza di un altro bambino nell'ambiente domestico. Mentre Erika cresce il piccolo in segreto nello sgabuzzino al piano di sopra, lei e Raymond continuano ad avere rapporti intimi non protetti e, indovinate un po', in poco tempo Erika rimane incinta di nuovo e decide di tenere nascosta anche questa gravidanza. Erika sa che Raymond non vuole altri figli ed è travolta dalla paura che lui la lascerà. L'incredibile storia quindi si ripete, Erika partorisce il suo quarto figlio in bagno da sola, mentre il compagno è ignaro di tutto. Anche questo bimbo viene sistemato nella stanza al piano di sopra e cresce in segreto, come il fratellino. Ma questi due bambini, vi domanderete, vengono nutriti e accuditi adeguatamente? Hanno mai visto un dottore? Non lasciano proprio mai il ripostiglio? Al momento parliamo di come Erika si comporta con i suoi due figli più grandi, quelli di cui Raymond è a conoscenza. A detta delle persone che la conoscono, Erika conduce una vita normale. Anche se esce di casa raramente, riesce a coltivare una vita sociale molto attiva su Facebook. Infatti pubblica post su Kyla e Nicolas per tutto il giorno. Nel 2014 due bambini hanno 13 e 10 anni e i contenuti postati sui social network sono costanti. Riguardano i pasti che Erika cucina per loro, le loro feste di compleanno, i costumi con cui li veste a Halloween, momenti di scuola, gite e pranzi in famiglia, ovviamente anche con Raymond. Kyla e Nicolas hanno tutto, vestiti nuovi e dispositivi tecnologici all'avanguardia. Mentre Raymond ora lavora in una società che produce oggetti di cancelleria, Erika è consentito di eseguire dei lavoretti artistici come decoupage e poi di venderli rigorosamente a casa. I vicini e tutti gli altri non sanno che Raymond impedisce alla compagna di lavorare all'esterno e credono che la loro sia una famiglia felice e amichevole. Erika appare come una mamma esemplare, adora i suoi figli e passa tantissimo tempo con loro. Kyla e Nicolas hanno parecchi amici a scuola e ai genitori dei compagni, piace Erika. Ma noi sappiamo bene che non c'è niente di normale in questa famiglia, a cominciare da Raymond che continua ad augurare di Erika e non solo. L'uomo coltiva nel seminterrato la sostanzina leggera e la spedisce da casa sua. Non è il massimo fare una cosa del genere con due bambini piccoli in casa. C'è anche un altro motivo per cui la famiglia riesce a mantenere così tanti segreti. Come detto, parenti, amici o vicini di casa non riescono mai a far visita a Erika per volere di Raymond. A Erika è concesso di rimanere in contatto con qualcuno soltanto tramite Facebook, ma nessuno sospetta che lei viva in isolamento e con due bambini nascosti in uno sgabuzzino. Sapete per quanto tempo protrarrà questo comportamento senza che nessuna lo scopra? Per sei anni. Avete capito bene? Sei anni. Tutti i bambini nati dopo Nicholas non escono mai dalla stanza in cui sono relegati e nessuno ha il corrente di questa situazione folle. Risulta che nemmeno Raymond se ne sia mai accorto, cosa, ripeto, a mio parere è molto improbabile, a meno che lui non tornasse a casa solo per dormire, ma ne dubito dato che voleva sempre tenere d'occhio Erika. Arriviamo al 27 agosto del 2014, quando si verifica un evento più unico che raro per Erika, la quale non esce mai di casa. In questa occasione però lei sta fuori tutto il giorno con sua figlia 13enne, Kyla. Siccome Raymond è al lavoro, Erika ha chiesto alla vicina Betsy Brown di prendersi cura di suo figlio Nicholas mentre lei è fuori casa. Anche Betsy ha un figlio di 13 anni, il cui nome non è stato reso noto, ma gli è stato assegnato lo pseudonimo di Pete, quindi lo chiameremo così. Pete e Nicholas giocano spesso insieme, quindi Betsy accetta volentieri di prendersi cura del ragazzino per qualche ora. Tuttavia Betsy nel corso degli anni ha notato qualcosa di strano, mentre Nicholas va spesso a casa sua, a suo figlio Pete non è mai stato permesso di andare a casa dell'amico. Comunque Betsy non ne fa un motivo per l'allarmarsi o per offendersi, dunque il 27 agosto 2014 sorveglia Nicholas e Pete mentre Erika e Kyla escono. I due ragazzini vanno prima sullo skateboard, poi giocano un po' a calcio. Betsy a un certo punto decide di lasciarli da soli perché ha bisogno di fare un salto al negozio di alimentari vicino. Mentre Betsy è al negozio, riceve una telefonata da suo figlio Pete che sembra letteralmente nel panico. Continua a urlare al telefono dicendo le bambine piangono e non riusciamo proprio a farle smettere, come facciamo a farle smettere di piangere? Betsy è confusa, non capisce di quali bambini stia parlando, quindi chiede spiegazione a suo figlio e lui risponde che è andato a casa di Nicholas dove ci sono due bambine che non smettono di piangere. Betsy non sa che Erika ha avuto altri figli e preoccupata torna indietro alla svelta e si ferma sul vialetto di casa della donna. Pete e Nicholas sono lì fuori, visibilmente sconvolti, quindi lei salta giù dall'auto e si precipita dentro. Una volta all'interno avverte subito una puzza opprimente, un forte odore di escrementi. Betsy si guarda intorno e scopre di essere circondata dalla spazzatura. È ovunque, cosparsa su tutto il pavimento. Betsy si guarda intorno e ha la sensazione che qualcuno sia entrato in una discarica, abbia prelevato un mucchio di rifiuti e li abbia rovesciati dentro casa di Erika. Ho trattato diversi casi in cui i protagonisti vivono in case sporche e disordinate con tanto di spazzatura accumulata, ma mai a questi livelli in cui ci sono ovunque cibo marcio, vermi, mosche e topi e persino delle feci sparse sul pavimento dappertutto. Betsy ha iconati di vomito, per miracolo si trattiene da rigurgitare. Poverina, la capisco. Sia Erika, sia Raymond, sia i bambini vivono in condizioni davvero terribili. Mi chiedo come abbiano potuto arrivare a tanto. Comunque Betsy decide di salire le scale e mentre si dirige al piano di sopra sente chiaramente il pianto delle bambine, proprio come gli ha detto suo figlio Pete al telefono. Il pianto però proviene da due stanze separate. Quando Betsy apre la porta della prima camera si trova davanti una visione destabilizzante, scioccante. Vede una bambina di 5 mesi che urla a squarciagola lasciata su un materasso completamente coperto. Ma la situazione peggiora perché Betsy esce da questa stanza per dirigersi nella seconda dove trova un'altra bambina di 3 anni. Anche lei ha abbandonata se stessa su un materasso lercio. La bimba è sporca, ricoperta dalle sue stesse e appare profondamente traumatizzata, infatti si dondola senza controllo sul materasso. Betsy spiega che la piccola, quando l'ha vista, le ha rivolto uno sguardo vuoto. Anche in queste due ultime stanze la spazzatura è ovunque, sembra di stare in una discarica. Betsy conforta le bimbe coprendole con i suoi vestiti, poi chiama il 911. Preferisce non toccarle perché non sa se sono ferite e teme di peggiorare la loro situazione. Intanto però va a distanza in stanza per parlare a entrambe finché la polizia arriva alla proprietà. La polizia entra veloce in casa e si precipita dalle bambine che hanno bisogno di cure mediche immediate e quindi vengono portate d'urgenza all'ospedale. Nel frattempo gli agenti perquisiscono la casa con non poca difficoltà. Anche loro rischiano di dare di stomaco per l'odore nauseabondo che le avvolge. Vi ho già detto che c'è spazzatura ovunque, lo potete vedere dalle foto che ora vi inserisco. Cumule di spazzatura su altra spazzatura e così via. Dappertutto. Si individuano contenitori per il latte ovunque, varie confezioni di cibo e alimenti che stanno letteralmente marcendo, ma non è finita qui. Ci sono elettrodomestici in disuso, biciclette rotte, pile di pannolini sporchi e piatti da lavare, cavi elettrici esposti nelle stanze. Come detto pare di essere precipitati in una fogna dove vivono sei persone, due adulti e quattro bambini. Mentre le più piccole sono sempre rimaste al piano di sopra, nelle loro camere prigione, Kyle e Nicholas si muovevano in giro per casa liberamente e rischiavano anche di ferirsi a causa di tutta questa roba. In una stanza in particolare la polizia non riesce neanche a entrare perché la barriera di rifiuti è invalicabile. Nella vasca da bagno ci sono torri di vestiti sporchi e poi in ogni ambiente, come accennato, si nota l'invasione di vermi e topi. Mi chiedo, ma per alcuni è così complicato raccogliere la spazzatura, metterla in un cestino e portarla fuori per farla smaltire? Dice, io mi chiedo realmente perché Erika e Raymond si sono ridotti a vivere in condizioni disgustose per qualsiasi essere umano? Non lo capisco. Nella stanza in cui Betsy ha trovato la neonata, la polizia ha rinvenuto anche il corpo senza vita di un povero cane che era lì da mesi. Tra l'altro vi avviso, perché ahimè io l'ho vista, c'è una foto online. Io non la inserirò in questo video, ma se andate a cercare informazioni sul caso è probabile che ve la ritroviate davanti, quindi fate attenzione se siete sensibili. In casa la polizia trova anche un gatto, ancora in vita, e un altro cane chiuso in una gabbia nel seminterrato. Se gli agenti non lo avessero salvato, di sicuro anche questo cane avrebbe fatto una brutta fine. Era malnutrito, coperto di croste, invaso dalle pulci, gli occhi infossati perché sormontati dalla sporcizia. Intorno alle 16 di questa sconvolgente giornata, Erika e sua figlia Kyla tornano a casa. Sono state via per otto ore. Otto ore in cui Erika ha pensato che le sue due figlie più piccole potessero restare a casa da sole, senza ricevere alcuna cura. Quando Erika ha vista la polizia, vi dirò di più, non sembra nemmeno preoccupata, non è in preda il panico, piuttosto appare indifferente. Uno degli agenti le si avvicina per chiederle dove sia stata e perché abbia abbandonato due bambine piccole in casa. Lei risponde che aveva delle cose da fare, insomma. In quel momento aggiungono anche i servizi di protezione dell'infanzia, in quali informano Erika che tutti e quattro i bambini le sarebbero stati portati via. Grazie a Dio, aggiungerei. Grazie a Dio. Lei pare non reagire, non mostra nessuna emozione o reazione, tuttavia c'è qualcosa che a Erika interessa, il suo gatto. L'unica cosa che dice è, fate attenzione, c'è un gatto in casa e non voglio che esca. Le autorità però le dicono che anche gli animali le verranno portati via perché li aveva trascurati e maltrattati. Il gatto e il cane, un segugio, vengono visitati da un veterinario per poi essere dati in adozione. La polizia porta Erika in centrale per sottoporla a un interrogatorio. La donna non viene arrestata perché le indagini sono ancora in corso e urgono risposte. Così gli agenti fanno sedere Erika che, come vedete da queste immagini, è molto calma, collaborativa e priva di emozioni. Erika conferma che le due bambine trovate in casa al piano di sopra sono figlie sue e di Raymond, così come i due ragazzini più grandi, Kyla e Nicholas. Erika spiega alla polizia che Raymond non sa dell'esistenza delle sue figlie più piccole, che non si è mai accorto della loro presenza. Racconta che, dopo Nicholas, lui non voleva altri bambini e che quindi lei gli aveva nascosto le gravidanze partorendo le due bimbe in segreto, da sola. La polizia è sconvolta. Erika come può aver cresciuto quelle bambine all'insaputa del suo compagno? Che poi, lo ammetto, è la stessa identica domanda che mi pongo anche io da quando sono venuta a sapere di questo caso. Comunque Erika ribadisce che loro non sono mai uscite da casa, anzi non sono mai uscite da quelle stanze al piano di sopra. Né la neonata né la più grande si sono mai mosse da quei materassi sudici in tutto l'arco delle loro vite. La polizia chiede Erika come si chiamano le due bambine. Lei risponde che non si è mai neanche presa la briga di dar loro un nome. Nei documenti ufficiali vengono utilizzati degli pseudonimi. La bambina di tre anni è assegnato il nome di Lisa. Quella di cinque mesi è identificata come Gina. Dunque, questi sono i nomi che userò d'ora in poi per riferirmi a loro. In seguito all'interrogatorio di Erika, la polizia va all'ospedale per informarsi sullo stato di salute delle piccole e scopre qualcosa di assurdo, di incredibile. Apprende che entrambi sono gravemente malnutrite e mostrano una forte sensibilità alla luce solare. Inoltre a Lisa, la più grande, non è mai stato insegnato a usare il vasino. Né Lisa né Gina sono mai state lavate. Io sono senza parole, vi giuro. Le due sorelline soffrono di irritazioni da pannolino e hanno vesciche sulla pelle, proprio perché sono rimaste su quei materassi per tutta la loro vita. Riportano persone morsi di pulci dappertutto e sono presenti dei tra i loro capelli e nelle loro orecchie. Né Lisa né Gina sanno come allungare le braccia per essere prese in braccio. Ciò significa che la mamma non le ha mai rivolto questo gesto ed è lei l'unico essere umano con cui sono entrate in contatto. Credo seriamente di non avervi mai raccontato di un caso così straziante. Sia Lisa che Gina sono terrorizzate dalle persone attorno a loro. Lisa, appena un adulto le si avvicina, si rannicchia su se stessa. La parte posteriore della testa di Gina è completamente piatta, dato che è rimasta per i suoi cinque mesi di vita sdraiata sulla schiena. Inoltre il suo tono muscolare è gravemente sottosviluppato, tanto che non riesce a muoversi mentre è sul lettino. E Lisa, nonostante abbia tre anni, non sa camminare né tanto meno gattonare. Anche la parte posteriore della sua testa è piatta, anche il suo tono muscolare è sottosviluppato, tanto che non riesce a sedersi. Può malapena tenere la testa dritta. Lisa non sa mangiare da un cucchiaio, non riesce a bere da sola. A seguito di un prelievo di sangue si rileva una mancanza di tutte le sostanze nutritive, i suoi livelli di vitamina D sono praticamente inesistenti perché non ha mai visto la luce del sole. Inoltre Lisa non sa parlare, ma riesce soltanto a emettere dei suoni gutturali. I medici credono che Lisa stia mostrando segni di autismo, non mantiene il contatto visivo, si dondola continuamente per consolarsi ed emette questi suoni gutturali senza sosta. Per i dottori è evidente, Lisa è terrorizzata, lo è sempre. Dopo l'adegenza in ospedale viene stabilito che, nonostante le terribili condizioni di Lisa e Gina, le due bambine non sono in pericolo di vita, per fortuna. Vengono entrambe date in affidamento e sottoposte alla riabilitazione per conquistare una vita normale. La polizia nel frattempo continua a indagare e interpella la famiglia di Erika a cominciare dai suoi due figli più grandi, Kyla e Nicholas, di 13 e di 10 anni. Nicholas racconta che lui e Pete hanno sentito il pianto di due bambini e hanno trovato Lisa e Gina nelle stanze al piano di sopra. Kyla e Nicholas dicono che ogni tanto sentivano questi pianti anche durante la notte, inoltre Lisa picchiava i pugni contro i muri, ma nessuno dei due ha mai visto le sorelline di persona. Kyla e Nicholas continuano a ripetere che la loro mamma stava facendo da babysitter alle figlie di una certa Michelle. La polizia però scopre che Erika ha inventato l'esistenza di questa donna. Quelle bambine appartengono proprio a lei. A una donna che in effetti a tratti sembra non esistere. Erika era arrivata persino a creare un profilo Facebook falso da attribuire a questa Michelle Ridgway. Sui social Erika era anche amica di questa donna e la foto profilo di Michelle rappresenta in realtà Erika con una parrucca e degli occhiali. Allora io lo ripeto, posso capire che i due ragazzini le abbiano creduto, ma Raymond come ha fatto a non accorgersi delle gravidanze della sua compagna? A pensare che questa Michelle esistesse davvero? Chiaramente la polizia interroga anche lui, ma Raymond ripete la storia raccontata da Kyla e Nicholas, cioè sapeva che quelle due bambine erano figlie di una donna di nome Michelle e che la sua compagna faceva loro da babysitter. Vorrei solo ricordarvi una cosa, Raymond è un manipolatore, un violento e un maniaco del controllo, quindi lo reputo capace di sfornare delle balle apocalittiche. Raymond secondo me sapeva come che quelle erano figlie sue, io ne sono assolutamente convinta. Lisa viveva in quella casa orribile da ben tre dannati anni, come poteva lui esserne all'oscuro? Raymond controlla ogni passo di Erika ma non si accorge che una bambina di tre anni vive e non è ospite in casa sua? Ma per cortesia. La polizia quindi chiede a Raymond se è lui il padre delle bambine, ma lui nega categoricamente. Tuttavia il test del DNA lo smentisce senza ombra di dubbio. E anche la storia che Raymond credeva che Erika facesse da babysitter alle bambine non regge, perché le piccole non erano in casa sua occasionalmente, ma sempre, mattina, pomeriggio e sera, e la più grande da ben tre anni. Una babysitter non lavora 24 ore al giorno, semmai questa doveva sembrargli un'adozione e dunque non se ne interessava? Non si rendeva conto di come vivevano Lisa e Gina? Raymond si giustifica dicendo alla polizia che passa la maggior parte del tempo nel semi interrato, che non andava mai al piano di sopra e quindi non aveva idea dell'accaduto. Ah bene, quindi se stava sempre nel semi interrato era lui che maltrattava il povero Segugio ritrovato nella gabbia a vivere distenti? Dopo pochi giorni dalla sua scoperta, questo caso viene approfondito dai media e risulta scioccante perché non capita tutti i giorni, per fortuna, di assistere a simili livelli di abbandono e sui minori. Erika nel frattempo non è ancora stata accusata né arrestata e non si allarma quando la sua storia viene diffusa dal telegiornale. Il che è assurdo a mio avviso, le hanno portato via quattro bambini, tutto il vicinato sa delle perfide azioni che ha compiuto per anni, ma a lei non sembra importare. Piuttosto Erika continua a postare contenuti su Facebook, a essere molto attiva sui social. Un paio di giorni dopo che i figli le sono stati portati via, iniziano a riemergere i suoi vecchi post che onestamente mi hanno lasciata a bocca aperta, a dir poco. Solo due mesi prima del ritrovamento di Lisa e Gina, Erika postava su Facebook uno stato in cui scriveva, alcune persone non dovrebbero essere genitori. Forse Erika sta parlando proprio di se stessa. In un altro post pubblica la notizia di un bambino di quattro anni venuto a mancare, commentando, è così triste. In un altro post ancora, sempre commentando la notizia della morte di un bimbo, scrive, donate per aiutare questa famiglia, è una tale tragedia, nessun genitore dovrebbe perdere il proprio figlio. In tutti i suoi stati sostanzialmente Erika parla di quanto sia straordinaria come mamma e il mondo all'esterno ci crede davvero, perché osserva le foto felici che raffigurano Kyla e Nicolas. Arriviamo al 10 settembre 2014, due settimane dopo la scoperta. Gli investigatori tornano a casa di Erika ed effettuano un'altra perquisizione per cercare più prove possibili, in modo da costruire l'accusa contro Erika e Raymond. Gli agenti prima di entrare in casa indossano tutte ignifughe realizzate con materiale non infiammabile, perché l'ambiente è persa in condizioni pericolosi e la loro salute è a rischio. Vi ricordo che in quella casa ci avevano quattro bambini, di cui due in giro per casa. La polizia setaccia i mucchi di spazzatura e si fa strada fino ad arrivare nella camera da letto di Kyla, una discarica in miniatura. Aprendo l'anta dell'armadio, gli agenti notano due scatole di cartone macchiate. Quello che sto per dirvi è davvero agghiacciante, perché entrambe le scatole contengono dei resti di bimbi. Inoltre nell'armadio c'è anche lo scheletro di un altro cane. Gli investigatori atterriti ispezionano anche la camera da letto di Nicholas, un altro deposito di rifiuti, e a questo punto sanno dove cercare. Si dirigono verso il suo armadio, lo aprono e trovano uno zaino. Lì dentro ci sono i resti di un terzo bimbi con il cordone umbilicale e la placenta, ancora attaccati. Probabilmente era nato morto. Se vi ricordate vi ho detto che Erika ha nascosto le sue gravidanze per ben sei anni. Prima di Lisa e Gina, Erika aveva partorito in segreto altri tre figli, da sola, nel bagno. Quindi ricapitolando, Erika ha avuto sette figli, due alla luce del sole, cinque portando avanti le gravidanze all'insaputa di tutti, partorendo da sola nel bagno. Ma tre dei suoi figli segreti erano deceduti. Uno di loro, come appena detto, è nato senza vita ed Erika ha messo il corpicino in uno zaino per poi dimenticarsene. Sui resti degli altri due vengono condotti dei test, ma risulta impossibile determinare con precisione quanti anni avessero e la causa della loro morte. Si ritiene che abbiano vissuto da una settimana a un mese prima di morire. A seguito di questa spaventosa scoperta, si Erika che Raymond vengono finalmente arrestati. Erika viene accusata di due capi di imputazione per omicidio di secondo grado e di occultamento di una morte fetale. Viene anche incriminata di due capi di imputazione per aggressione che ha causato lesioni gravi a un bimbo e due capi di imputazione per crudeltà sugli animali. Raymond invece viene accusato di due capi di imputazione per aggressione e per cosse su un bambino. Due capi di imputazione per crudeltà sugli animali e uno per coltivazione della sostanzina leggera. Quindi lui non viene accusato di omicidio di secondo grado. Ritengo onestamente che tutto ciò sia ridicolo e vi ho già spiegato il perché. Secondo me Raymond era a conoscenza di tutto. Sia Raymond che Erika rimangono in prigione in attesa del processo che ha inizio dopo cinque anni, nel giugno del 2019. La difesa di Erika prova a presentare alcuni fattori attenuanti, tra cui la sua salute mentale. I suoi legali affermano che lei è stata abusata, manipolata e controllata da Raymond per anni. Quindi era incredibilmente vulnerabile. Cercano di attribuire la colpa del suo processo decisionale al suo cui molto basso. Infatti sostengono che il suo processo decisionare, la sua capacità di riflettere sulle situazioni e il modo in cui elabora le informazioni, sono gravemente compromessi. Per loro lei ha, diciamo, strumenti limitati per comprendere come ci si relaziona nel mondo. Erika soffre di una forte depressione e le viene diagnosticato un disturbo evitante della personalità, che si caratterizza nel suo tentativo di sottrarsi a situazioni sociali o interazioni che comportano il rischio di rifiuto, la critica o l'umiliazione. In effetti si era proprio comportata così, reagendo alle due gravidanze. Non voleva ammettere di essere incinta, neanche a se stessa e quando ha partorito non voleva ammettere di avere figli. Ecco perché li trascurava, abbandonandoli in quelle stanze ignobili. Tuttavia l'accusa sostiene che, sebbene Erika possa accusare questi disturbi mentali, essi non possono rappresentare una giustificazione, anche perché Erika aveva dimostrato di saper utilizzare le sue capacità mentali per inventare una persona fittizia, Michelle. Ma la difesa sostiene anche che, poiché non è stato possibile determinare la causa della morte dei due bimbi ritrovati, non si può affermare in modo definitivo che Erika sia la responsabile del loro decesso. Incredibilmente, alla fine del processo, la difesa ottiene ciò che vuole perché Erika Murray viene dichiarata non colpevole per i due capi di accusa per omicidio di secondo grado. Tuttavia viene dichiarata colpevole di tutte le altre accuse. Anche Raymond nel suo processo viene dichiarato colpevole di tutte le accuse a lui rivolte. Viene condannato a quattro anni e mezzo di prigione. Un debito a quella giustizia è già saldato, perché vi ricordo che era già rimasto dietro le sbarri per cinque anni in attesa del processo. Questo significa che in pratica viene rilasciato immediatamente. Erika Murray viene condannata dai 6 agli 8 anni di prigione e siccome anche lei ne ha già trascorsi 5 in carcere, in sostanza deve scontare una pena che va da 1 a 3 anni di detenzione. Come vi ho detto, il processo si è svolto nel 2019, quindi quattro anni fa. Questo purtroppo vuol dire che Erika Murray è già stata rilasciata dal carcere. A seguito degli orrori emersi con questo caso, la casa in cui vivevano Erika e Raymond viene demolita. L'abitazione si trovava in una strada trafficata, a due passi dalla stazione di polizia e dagli uffici comunali, ma nessuno si era mai accorto di nulla. Io però sono ancora senza parole perché questi due esseri sono già liberi di scorrazzare in giro, di fare e trascurare altri figli. Erika non è stata ritenuta colpevole per gli omicidi, ok, ma è stata giudicata responsabile per molte altre accuse. Quindi perché non le è stata assegnata una pena più severa? La non curanza che ha manifestato quando è stata scoperta? Non so se sia giusto attribuirla alle sue capacità mentali limitate. Trovo assurdo che Erika non capisca quanto fossero sbagliate le azioni che aveva compiuto. Questo è uno dei casi più orribili tra quelli che conosco, ma in corrispondenza vi ritrovo le condanni più blande che si possano infliggere. E attenzione a mio parere anche Raymond ha la sua consistente parte di colpa e come detto non posso credere che fosse all'oscuro della morte o della presenza di altri figli sotto il suo tetto. Posso provare a credere che non fosse a conoscenza di tutte le gravidanze di Erika, che non sapesse dei resti dei tre bimbi conservati nelle scatole e nello zaino, tuttavia sapeva sicuramente che due bimbe vivevano al piano di sopra. Onestamente sono molto amareggiata, devo dirvelo, e ho fatto anche particolarmente fatica a portare a termine le ricerche su questo caso. Ho fatto molte pause mentre lo approfondivo e a un certo punto addirittura pensato di lasciar perdere, perché ero assalita dalla tristezza, dalla rabbia, dal disgusto. Sono rimasta disgustata dalla condanna inflitta a questi due esseri, disgustata dalle loro azioni, disgustata dal modo in cui hanno cresciuto i due figli più grandi, Kyla e Nicholas, in quella casa sudicia come una fogna e pericolosa, disgustata dal trattamento che Erika ha riservato ai tre bambini che non sono sopravvissuti, e a Lisa e Gina. Il mio ultimo pensiero si rivolge proprio ai figli che sono stati sottratti a questi genitori indegni, Kyla, Nicholas, Lisa e Gina. Kyla e Nicholas sono andati a vivere con il nonno paterno in una casa grande e bellissima. Sono riusciti a condurre una vita normale, anche se sono certa che il trauma li abbia perseguitati a lungo. Forse continua a perseguitarli tuttora, ma fortunatamente ora stanno in un posto sicuro, pulito e in compagna di persone amorevoli. Su Lisa e Gina non ho trovato molte informazioni, ma so che dopo aver lasciato l'ospedale sono entrate nel sistema di affidamento americano e le condizioni di entrambe sono migliorate notevolmente. Lisa, che all'epoca dei fatti aveva tre anni e non sapeva né gattonare né camminare, due settimane dopo l'affidamento ha già imparato a farlo. Credo che questo sia un esempio di quanto sono straordinari il corpo e lo spirito umano. Un anno dopo Lisa è stata visitata dall'operatore sanitario che si era preso cura di lei inizialmente. La bambina gli è corse incontro con un enorme sorriso stampato sul volto e sono così felice per lei e per i miglioramenti che ha fatto, camminare, sorridere, mangiare da sola, stare bene. Su Gina non so molto, lei aveva soltanto cinque mesi quando è stata salvata, ma sono certa che ha ricevuto le stesse cure e fatto gli stessi progressi della sorella. Insomma, sono felice che queste due bambine siano state portate via da quell'ambiente malsano e salvate. È stata data loro la possibilità di vivere una vita normale, anche se avranno dovuto lavorare sodo per vincere i loro traumi, in quanto il loro sviluppo fisico ed emotivo era stato bloccato da una madre fredda e incosciente. Spero che tutti i figli di Erika possano vivere una vita sana e felice lontano da lei. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video e ci ho messo un po' per registrarlo, in realtà, questo video e sono davvero rimasta senza parole per questa storia. Trovo assurdo tutto, tutto. Io sono senza parole e soprattutto non riesco a credere che Raymond non sapesse nulla. Ve l'ho già detto tante volte, io però sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo caso e secondo voi Raymond sapeva o secondo voi non sapeva nulla. E poi voglio sapere anche cosa ne pensate delle pene che hanno ricevuto questi due esseri perché io non mi sento di definirli umani. Questi non sono umani, sono esseri. Fine. Questa storia, in questa storia ci sono un sacco di cose sbagliate, a mio avviso, davvero troppe cose sbagliate e vi giuro che io quando sono arrivata a metà sono rimasta disgustata, cioè ho dovuto proprio chiudere il computer e andare a fare altro per pensare ad altro. Quindi niente, sono curiosa di sapere quale sia la vostra opinione. Come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!